Sono felicissima perché era troppo importante riuscire a fare punti, a prendere fiducia e poi soprattutto davanti al nostro pubblico perché davvero non ci sostengono fin dall'anno scorso e tutte le partite vengono a seguirci. Era davvero importante riuscire veramente a dargli delle soddisfazioni anche qua in casa, quindi con la vittoria di 3-2 e di 2 punti che ci mettiamo in tasca, che ne avevamo davvero bisogno. In tanti momenti questa squadra ha dimostrato di avere un po' di paura di vincere, che cosa invece è andato bene questa sera? No, devo dirti la verità che quando, essendo una squadra molto giovane, abbiamo purtroppo dei picchi di alti e bassi. Questa sera devo dirti la verità che nei primi due sette veramente abbiamo giocato una buona falla a volo. Poi come al solito purtroppo noi abbiamo un po' di cali, non sempre spiegabili di paura, di tensione, non siamo ancora riusciti bene a capire in esperienza anche. Però era stato l'importante comunque di reagire nei tiebreaker perché non era facile, comunque sono i due pari, ti giochi tutti in un set alla fine e quindi siamo stati bravi comunque sempre a stare avanti, non siamo mai riusciti a farci riprendere, quindi questo è stato importante.